Musica Ciao ragazzi, oggi siamo su un gioco chiamato Juarez Che praticamente è tutto sfocato ragazzi, ecco adesso non è più sfocato Allora, questo gioco era molto molto bello per questo ho voluto fare Allora, io e lui ci mettiamo, io voglio giocare come rei Come rei giochiamo dai, perchè invece questo è nero Allora, ok, abbiamo le pistole, abbiamo il pompa, dove ricaricare Poi abbiamo la dinamite più la revolver, abbiamo la revolver più la dinamite e il revolver basta e il doppio revolver bene Io direi di mettere per adesso Il, ehm Rivaldo più di la dinamite, tu la lanci così E spari così Perfetto riva, allora andiamo, ciao Allora Perfetto riva Perfetto riva Evadere il rigeonello riva Spariamo ai polli Spariamo ai polli, è morto il re Il pollo È morto il pollo Allora, cambiamo Attivano le due pistole No Ah Regà No, eh, ho sbagliato Ah, se fa così Allora, direi di mettere queste Allora, cosa fa? Ah, qua, devo salire Allora Adesso non ci sono cattivi Quindi, devi andare con la stellina Qua No Ok Poi cattivi è Lì Le La La E L'ho puntato E L'ho puntato B Morti Morti Perché? Continua, perfetto L'abbiamo ammazzata Chi l'ha sparato? Ah Infame 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 E non fanno No Aspetta Mamma mia Mamma mia Eh Adesso è amore Allora Aspettate, regà Le facciamo di lui Questa è un pompa Madò Che botta Che botta Che gli ho spaccato tutto Allora, regà Ci mettiamo La bomba Niente la bomba Cominciate almeno là Sì Ok, regà Ah, non è più lassù E dov'è E dov'è? Eccolo Si 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 spara Allora, tocca sfondare la finestra Con il cavallo Con il cavallo Va bene Aspondare Aspondare Sentiamo Perché tanto il video non ci interessa Aspetta 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 che devo ampia il fucile Sta ricaricare Dove stai gi ah perchè mamma c'è doppia pistole oh aiu aiu mannaggia ti spacca in due che cavolo qua spacca tutto allora vediamo un po' allora direi di sostituire questa qua con cosa si può sostituire? me la voglio sostituire ok ecco ecco puntarla ok ok questo è molto molto forte molto molto forte allora e andiamo così invece noi vediamo se c'è quella d'oro questo è molto più forte sì ma io vorrei allora questa è la o non so qui questa qua ranger ranger vecchia sì e noi mettiamo la ranger vecchia per la mia la ranger è la mia scuola ecco io con la vecchia non è cambiata niente allora questo perfetto c'è fra allora dobbiamo aprire ascomando mamma mia siamo forti ok colletto e che aspetta la strage sto a fare che aspetta ma stanno a sparare ah no senti che fa fame schifo 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 aspetta fammi mettere la l'eru velvore quella aspetta che devo sparare mamma mia ti spacco in due mamma mia ti spacco in due morto eh volevi ci mettiamo una bella rivolver con questa che la lancia la mentre che la lancia che canne mozza ho visto ho visto non lo canne mozza eh no sto a morì eh sto a morto eh sto a morto che è il canne mozza uè la nonna e dov'è la canne mozza e non la trovo più raga eh ho visto oh raga forte ok raga spennami quello che ricarica ok ricarichiamo andiamo e che è adesso che c'ha che c'ha che c'ha che c'ha sto qua e dove è andato ci proteggiamo dove è andato raga dove è andato stanno sporati qua ah guarda che ah mi vuoi sfidare raga ricarica l'ho ammazzata perfetto allora dove dobbiamo andare andro ricarico invece questo e abbiamo queste ah abbiamo queste qua che molto buone sono io so che c'è anche un negozio di armi se ciao però non so dove arriva cosa ho visto cos'è questa ranger cosa è questa ranger ottimo ok ok dobbiamo trovare una lampada ops ci dobbiamo trovare una come dire un'arma for mi so ah ci possiamo sponcare il vetro guarda mamma mia 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 ah non possiamo vabbè scontate come facciamo non lo so dov'è ma dopo perché eh mi stanno ammazzà eh so forti qui aspetta mi lancio una bella lampada sperando di non darmi un poco da solo mannaggia quelli la lanciarmi la lampada eh che genio che sono perché sta più a fuoco fuggi fuggi si può raccogliere no la sedia mi serve no la sedia non si lancia allora raga io lo so eh sto prendendo fuoco allora allora raga dobbiamo riuscire a fare questo niente niente dobbiamo andare sotto ammazzato non pilla bottiglia fra non pilla bottiglia allora prendendo un bello canno mozze oh canno mozze direi di uscire e ma raga da lontano fa schifo ma da vicino mamma mia se fa male fa dei benissimi danni io sono ammazza oh eh ci prendiamo le mie aiuto l'antra come povera sentiamo via mamma mia la mia è potentissima allora aspettate ok ultimo di oggi attenzione raga io mi fermo qua spero che sia vi è piaciuto mi raccomando lasciate un piace iscrivetevi al canale e ci vediamo con il prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.